Posso fare la intro Ma che c... Ciao ragazzi benvenuti in questo inizio video Oggi il video lo farò insieme a Captain Poenix E senza Luciano Senza Luciano perché lui sta male Senza Luciano perché lui sta male Quindi non è potuto venire Perché c'è un coso... Eh? Ti dice Captain Poenix Perché io che ho detto? Captain Poenix Non lo capisco Captain Poenix Ok allora No Captain Poenix Basta è un video Siamo già un minuto Come sta facendo un video? Allora ragazzi in questo video Spiega Urla Ok in questo video Di più urla Fatti sentire No urla le parole In questo video Utiliseremo tutti questi morph Per fare nascondino Tipo io divento un morph Un morph interessante Tipo se mi metto Di Beast Bendy Poi però mi... Captain Poenix è diventato qualcosa di molto strano Però poi mi metto anche Boris Ecco E mi metto anche questo qua Che cavolo ho fatto Ricordatevi che con il shift si... Luciano aiuto Cosa? Quale sei tu? Questo qua con la testa di Boris Ma che cazzo Ragazzi Cazzo è già morto No ok ragazzi Cazzo è perfetto Vogliamo iniziare il video Che dobbiamo fare? Allora Iscrivetevi al mio canale E a quello di Captor E a quello di Luciano Iscrivetevi Non ho ancora fatto video però Cioè non so se ha fatto Vabbè Ma iscrivetevi Vabbè allora Io Luciano Spiega cosa dobbiamo Spiega cosa dobbiamo fare Che siamo già a tre minuti Nascondito Ok Madonna Tre ore e mezza Per dirlo Avete Avete esattamente Quattro secondi per scappare Con il shift si corre Uno No no shift Sono tutte le Uno Come no Non c'è il tasto corsa No Vabbè allora non si corre Va bene allora Uno Due Pizza Sette Come sette Non era fino a quattro Ho dieci minuti per trovarvi Indissimente sono triste E non posso correre Perché la tania è più tristica C'è Kaftor E cosa sta facendo Kaftor No niente Ho sentito uno morire È tutto normale Sì è tutto normale È da tanto che ormai l'uffo non c'è Vabbè che ce ne frega Sembra non lo so come se fosse morto qualcuno di nome Uff Perché è proprio tuffo Perché è proprio tuffo Tuffo Giusto Fai un tuffo Vabbè Kaftor Allora Kaftor esploda Ragazzi se volete Che io pubblichi L'amore di me è un playground di Kaftor Iscrivetevi al mio canale Che la pubblico Iscrivetevi al canale di Kaftor Al mio canale Al canale di Antonio Al canale di PaviJ Perché è importante Allora ragazzi Pietro ha aperto un canale Il problema è che io oggi l'ho cercato e non si trova Perché lui ha zero Non ha ancora fatto video Non ha ancora fatto video E non sappiamo Non so come sarà possibile trovarlo la prima volta Però vabbè ragazzi Quando fare un video sicuramente lo troverete Vi scriverete Vi lascerete anche E poi direte che è brutto E comunque ragazzi Dovremmo fare un video Ragazzi comunque praticamente Pietro è brutto In tutto questo E comunque ragazzi Kaftor Poetics Noi dovremmo fare un video con Pietro E comunque ragazzi Basta Basta Ragazzi ho notato che il video di Dottor Basta Ho notato che il video di Dottor Lysley Ha aggiunto un sacco di mi piace Giustamente che io dico di fare la passeggiata Pietro accetta Luciano dice Ma non mi sembra Io ho scritto la storia sotto dei messaggi E qual è la storia mi sono dimenticato Allora la storia era questa Ragazzi andiamo a fare una passeggiata Io quanto Antonio non mi sembra il caso Tu e Pietro Andiamo 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 Non siete qui! Aiuto! Aiuto! No, sono diventato un pezzi! Salsa! Ma cosa hai? Su, faccio paura, mi assento! Intanto Luciano può guardare... Il captor ha scritto tutto vivo! In tutto questo Luciano può guardare cosa sto facendo dal collegamento. Sì, infatti io ho paura... Ma che vuoi ancora? Fa sei minuti, mi devo spiegare dove siete! Mi dici di prima, vale ancora? Sì! Ma non ci sei! Mi è scuso Roblox? No, no, ecco, non mi è scuso Roblox! Eeeeeee! Aspetta un po' Undertale! Ti diamo l'indiccio, Undertale! Eeeeeee! Oh! E' su, papà! Ma tu fatti! Siamo a sette minuti! Siamo a sette minuti! Siamo a sette minuti! Siamo a sette minuti, neanche la prima partita! Siamo a sette minuti! Ma infatti, ma a me che ogni partita dura 10 minuti praticamente! Ma come? Ma allora dove dovremmo fare due partite? Non mi fa mica... No, facciamo che dura più poco! Ma adesso, forse non è vero! A Caphtor l'ha scritto! Forse non è vero! No, no! Caphtor è vero! Siamo da... Non lo so! Forse sì! Forse no! Ho ho ho! No! 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 Sì! Voi! Sì! Voi! Sì! Voi! Ve' che un giorno... Pahtor! Ok finalmente ho sbrannato Pahtor! Pahtor! È stato cahtori... Castorizzato! E non mi hai trovato ancora allora? No! Dove cacchio sei? Ma come? Ma io non so dov'è Papaius, ho capito che sei da Papaius Ma no, ma che cazzo Ma no, non so, non è Papaius Perché hai detto ma che cazzo, in quel modo molto scioccato? No, nulla Sì, sicuro, sicuro, sì, sì, sicuro Non sono Ti ricordo che io ti leggo nella verga Ma ti giuro, io non sono da Papaius Perché io sto con Antonio, ha scritto Cast Ma come? Ma non mi hai visto? Ma come sei? Non mi hai visto Ma tu dove sei? Ma come? Ah, salve, non l'ho vista Ma tre ore, ok, sono giallo Ma non credo che si mi mette così tanto Ma no, mi mette tantissimo Perché i pantaloni sono più allo scuro Di sopra è più un pallino Ma te sei qui? Sì, dove sei? Dove lo vedo questa quadrata? Ora, ora No, Luciano, ora facciamo una prova Ora mi vedi? No Ma no, sì, sì, devi dire sì Vabbè, sì Vabbè, sì Vediamo se ora mi vedi Dove è finito, Antonio? Che è? So, casi Ma che ca... Che è successo? Non lo so Esplode casa Vabbè, allora Chi è il cercatore? Chi è il cercatore? Chi è il cercatore? Forza, forza, forza Il prossimo cercatore Ok, caftor Tu sei il prossimo cercatore Forza, caftor Diventa qualcosa Caffstoro Caffstoro Giusto Antonio, perché hai chiesto un po' un caldivio Vabbè, giusto So, sei il vecchio Allora Siamo tornati Un mite Donne è un mio amico Ti fai E adesso lo sarà il tuo amico Adesso anche lui è il caffè E lui è bambino Non credo sia più Vabbè, frianzoniamolo Ok, sto scherzando ovviamente sto scherzando ovviamente non ti frenzoniamo però non è che vabbè ok giustamente caftor è diventato questa roba e dovremo scappare forza dacci secondi caftor ma no troppo no no troppo luciano forza dove sei bucciano bucciano eccoci eccoci va giusto si ma no ma lui non lo metterò nella copertina non dovremmo dirgli che stiamo facendo un video e vabbè dai mi sta giocando tranquillo si un piccolo bambino vabbè io lo scrivo giusto allora i am extinct ma come non c'è cazzo stiamo facendo un escondino stiamo facendo un escondino ma nel video non c'è ma nel video non c'è lui ma ma no 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 non era programmato di aggiungerlo nel canale non lo conosco ma nel video non c'è 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 non si corre cazzo perché lui non è la corsa no 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 ci devi toccare ci devi toccare cazzo mi trovi te com'è frenetica questa corsa dovremmo metterci una musichetta non vale caftor hai sa dei trucchi caftor li devi ancora prendere caftor caftor non hai preso vabbè lui non lo prende lui ha vinto si però devi prendere l'altra no 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 lui ha vinto è finito il round ma ma come dai non ho giù ma poverino ma è Rad è Rad è Rad è Rijo ma non è nolloso perché è andata anche a te perché perché è sì vai aspetta aspetta Allora però ci sono delle regole, a posto degli indizi dovete dirmi letteralmente dove siete, poi dovete pregare per me e poi dovrete diventare Bob. No anzi Ron, ragazzi sono il cattivo più accattivante del mondo. Sì ma comunque sono diventato il cattivo più accattivante del mondo. Andate all'inizio, sono veramente un bad boy. 10, aspetta aspetta sì sì, 10, 9, 0 ho fatto. 10, 9, 0 ho fatto allora. Vi siete nascosti? Eh piccini? Piccione? Eh piccione? Vi siete nascosti piccione? Ma Luciano siamo già 17 minuti. Ragazzi abbiamo un video fighissimo da fare insieme però sarà anche una specie di doppiaggio se possiamo chiamarlo così. Quindi c'era tutto il possibile. Ah, la gamba! Brava mia, sembra che avete visto un mosso vero e pronto. Gamba! Bene, ecco, ecco come non farvi passare. Vi... Ma non ci può correre! Ok. Ma ora mi son messo qui, quindi... Ehehehe. Ehehehe. No no no, uè, non va. Cattor preso! Non va lei! Non va lei corso! Dai corso! Non va lei corso! Dai corso! Cattor aiut... Ok, cattor ora puoi aiutarmi. non è vero l'ho toccato l'ho toccato i miei scrittini hanno visto l'ho toccato cazzo puoi anche non scappare tanto io te l'ho preso vabbè riprendiamolo giusto aspetta ora io ho pensato una cosa aspetta aspetta comunque io ho pensato una cosa ma voi siete Ronini siete Ronini sapete che i miei scritti sono i Ronini ah no aspetta gli Antonini vabbè ora sono interessato quella pelle succosa di Lucia non cosa vedo chiaramente che stai correre bendy bravo aiutami ti ho preso e sei su cosa e sei su cosa tu ma caftor mi senti quello prendendo prendere il e però hai scritto per bloccarti dai dai ti ho toccato chiaramente ti ho toccato ti ho toccato ti ho toccato ti ho toccato giuro ok ora è tutto ok ora prendiamo caftor come cavolo si chiama come cavolo si chiama come cavolo si chiama dai ti ho toccato dai ti ho toccato dai ti ho toccato io no dove sei ma che fa palla ma come no è uscito da te ok ora sono più spaventoso o sei un po' con la barba gli indizi aspetta Luciano dì al tizio che mi deve dare un indizio ok ti manca solo tu solo tu il più tu 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 dai giura sta durando 22 minuti e poi se lo chiamo a te ma come già lo chiamo a te no allora non ho capito finiamo alla terza finiamo alla seconda la terza ok ho metto in pause il video tre ore l'ho preso ragazzi l'ho preso ragazzi l'ho preso ragazzi l'ho preso ragazzi no 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 non ho preso ragazzi non è mai come dannati aspettate ok è passato vieni ok tutto questo io sono ancora quel coso stanto uso Vabbè sono un coso E due, uno, via Troppo veloce, vi contare a un millesecondo Ce la facciamo E qui che mi hanno senso del canale No, no, tutti i video sono senso Allora ricordiamoci che il nostro canale è conosciuto per non avere senso Quindi giustamente è normale se entra gente accanto del canale Che alla fine, all'inizio facevo altri video L'unico gameplay che avevo portato era Bendy Ma Bendy hai portato Bendy e lei tu hai scelto Capitolo 1 Io non so se portare Bendy Antonio, adesso tu, adesso ti entri dietro nel luogo Ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi Lasciate un like Ha ragione capito Cosa ha ragione Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e lasciate un like Ma veramente, tu ancora non avevi visto il video in cui ho fatto il gameplay del capitolo 1 No, non mi vuoi riuscito perché l'avrei fatto 40.000 anni di Aneva Vado a cercare nei video Un numero di video Sì ragazzi Antonio come sei triste? Antonio come sei triste? Tre anni e ancora 100 iscritti Eh? Sei triste perché tre anni e ancora 100 iscritti Ebbè, non è che ci sono voluti tre anni Prima ne avevo 70 Vedete, 70 scendo c'è un cambiamento Oddio Luciano Ma Luciano Ho trovato Dusty Sans Grazie per avermi detto dove sei Ma come? Aspetta Io pensavo che non lo sapessi Ho preso Castor Castor che ho preso mentre scendevo Ragazzi, Castor è stato preso Ma sei quel mostro laggiù Ma sei tu quando? Sì Ma tu sei questa cosa strana Sì Non puoi correre Sì No, non corro Che bella Non hai detto C'è di lui Non ti è capito nulla Castor Ti ho preso Che cosa bella Ci vorrebbe una musichetta Beh, vieni qua Non è vero Oh, questa volta Veramente non mi hai toccato Io ero 30 metri di stanza Non mi vedrai mai Ti sei messo in troppo No, non è vero Non mi si vede il personale Sì, sei tu Ti ho preso Ti ho preso Hai preso anche il tizio Raggiacca là No, no Manca Raggiacca Giusto Perché alla fine Manca solo La calla Scusa Però il tuo nome di Eccolo È all'inizio No, sì Ti sto per vedere Poi raggiacca Sembra uno di quei nomi Che mi mette Sto a caso Ti ho preso Ho preso Ma comunque Così questo Sembra uno dei nomi Che mettevo a caso Cioè Quando Luciano Ragazzi io ve lo racconto Io all'inizio Quando Ero piccolo Non avevo sto account Giustamente Io mi mettevo degli account Non so perché Solo per giocare a Piggy Perché quelli erano i giochi del momento Poi non gioco più Perché sono brutti Cioè non è che dico Sono brutti Che sono ripetitivi Comunque Ripetitivi Allora Allora perché Prima non mi metteva Antonio Io dovevo mettere tipo Aspola con Lullu Perché non mi metteva Cioè tipo Cioè tipo Cioè ho 30 account Cioè Ogni volta però Comunque lo installavo Roblo Cioè Cioè ho tipo 30 account Con quel nome Ma è Che fece tante Vabbè Tipo Non è Non è impossibile La legge Come si legge Cioè io adesso Voglio una guida Che è Che è successo Che è Che è Ah per un canale YouTube E fa la guida Di come leggere Il suo nome Perché Io ho sentito Oddio Ho sentito Un rumore Ho sentito E splosa Ma come È veramente Sbosa Sì sì tranquillo Vabbè Comunque ragazzi Poi finire qua Il video Perché Poi finire qua Il video Perché Nel suo tempo Allora Ragazzi Spero il video Ti è piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un commento E non vi piace E noi vi vediamo Al prossimo video Siamo russi Ciao Vado a coltello E Luciano Ciao ragazzi Siamo russi